Bentornati amici sul mio canale o se siete nuovi benvenuti, sono Elisa True Crime e come ogni lunedì e venerdì anche oggi sono qua con voi e vi racconto una storia di True Crime che mi ha particolarmente scioccata. Dunque oggi è una giornata speciale, non solo perché parleremo di un caso davvero disturbante, me l'avete chiesto in molti e forse quello che mi ha turbato di più in assoluto, ma anche per un altro motivo, essendo questo un caso appunto come ho già detto molto molto disturbante ho deciso di farlo per Halloween e ho deciso di non raccontarvelo da sola ma in compagnia di due mie colleghe e amiche. Probabilmente le conoscerete già, sono Fio del canale La Mela Avvelenata e Silvia del canale L'Occhio Creepy, mi chiedete una collaborazione con loro due da sempre e quindi abbiamo deciso di accontentarvi per Halloween. Ma cominciamo con la nostra storia e preparatevi ad avere i brividi. Ciao ragazzi e ciao ragazze, se non mi conoscete io sono Silvia e sono qui ospite per questo video nel canale di Elisa True Crime. A me fa molto piacere perché come già vi ho detto Elisa per quanto mi riguarda è una cara amica oltre che una cara collega. Detto questo iniziamo immediatamente col video. Ci troviamo nel quartiere di Sant'Nagar, a Burari, una piccola cittadina di Delhi in India. La famiglia Chundawat è una famiglia allargata, formata da 11 persone. Questo significa che ci sono tre generazioni diverse che vivono sotto lo stesso tetto. Questa è una classica famiglia indiana rumerosa, molto affiatata e rispettabile. Sono proprietari di un minimarket al pieno terra della stessa palazzina in cui vivono e di un negozio di negnami. Il minimarket apre puntuale ogni mattina alle 5.30. In realtà apre puntuale tutte le mattine, tranne una. La mattina del 1 luglio del 2018, come di consueto alcune persone si dirigono al negozio verso le 6 per comprare il latte. Ma una volta arrivati lì si accolgono che il negozio è ancora chiuso. Questo è strano, molto strano. L'orario di apertura è già passato da un pezzo e la famiglia rinomata per essere sempre puntuale ed affidabile non hanno mai aperto il ritardo. I clienti quindi decidono di fermarsi ad aspettare, pensando che semplicemente avranno avuto un contrattempo. È così che le 6 del mattino passano. Quando alle 6.30 ancora non si vede nessuno, qualcuno prova a rintracciarli al telefono, ma nessuno dei membri della famiglia risponde. Un vicino di casa, quindi cominciando a preoccuparsi, decide di salire direttamente al piano di sopra, dove, come già ho detto, abitavano per assicurarsi che tutto sia a posto. Il vicino dunque sale le scale, bussa la porta, ma nel farlo si accorge subito di qualcosa di strano. Quella porta d'entrata è aperta. Il vicino quindi entra in casa e una volta entrato, si trova davanti a una scena che per poco non gli fa perdere i sensi. Inizia subito a urlare istericamente, uscendo il più velocemente possibile, per chiamare subito dopo le autorità. Immaginate ora il contesto. L'India è caotica, iperpopolata. Quindi molte persone si sono già riunite in strada e assistono alla scena. Una dopo l'altra decidono di entrare in casa dei Chundawat per capire cosa avesse terrorizzato così tanto quel signore. Ma purtroppo, uno dopo l'altro, tutti coloro che salgono al piano di sopra ne escono terrorizzati e urlando a squarciagola. La polizia arriva sulla scena verso le 7.25. Il primo agente ad entrare era Jeb Tomar, che aveva avuto un ordine dalla centrale di andare a Burari, il quartiere di Saint-Nagar, perché c'era stato un suicidio in casa. L'agente Tomar vive proprio in quel quartiere e conosce bene sia quella casa che la famiglia che ci vive. Quando arriva vede una gremita folla di persone davanti alla porta di casa della famiglia. Una folla ormai sotto sciocco che ha inondato la strada sottostante. C'è gente che sale su e giù dalle scale, che riprende con il cellulare, chi cerca di scappare, chi urla. E, quando anche lui sale finalmente al piano di sopra, capisce il motivo di tanto trambusto. La scena che l'agente Tomar si trova davanti sembra uscita da uno dei più spaventosi film horror. Al centro del soggiorno, sul soffitto, c'è un lucernario con una griglia di ferro, da cui pendono nove corde di stoffa colorata. Ad ogni corda pende in p***o uno dei nove membri della famiglia Chundawat. Sul lato opposto della stanza si trova il decimo membro della famiglia, una donna sempre appesa nello stesso modo. E in un'altra stanza, per terra, c'è l'undicesimo membro della famiglia, la nonna Narayami. Anche lei è senza vita, ed anche lei ha una sciarpa intorno al collo. C'è anche un dodicesimo membro della famiglia. Lui è sopravvissuto. È un cagnolino di nome Tommy, che la famiglia aveva legato sul tetto e che, da ore, non smetteva di abbaiare. Quel cane era traumatizzato da tutto ciò che era successo, ma fortunatamente viene ben presto portato in salvo. A prima vista questa scena poteva sembrare un su*****o di massa. Ad eccezione però di alcuni dettagli. Tutti i membri della famiglia, ormai cadaveri, hanno le mani legate dietro la schiena. Sono imbavagliati, con gli occhi bendati e le orecchie tappate con del cotone. L'agente Tomar, davanti a tutto questo, entra nel panico più totale, in quanto non si è mai trovato davanti niente del genere. Chiama subito in centrale per avere rinforzi. E durante questa telefonata è così tanto agitato da non riuscire neanche a contare quanti corpi ci siano in quella casa. Poco dopo arrivano i rinforzi, insieme anche a tutto il team di medici forensi a disposizione, che, dopo aver messo in sicurezza la scena, iniziano ad analizzarla. I corpi sono tutti legati, imbavagliati, vendati e con le orecchie tappate. Notano anche che hanno tutti uno sgabello nelle vicinanze, su cui erano sicuramente saliti prima di compiere il terribile gesto. Ma alcuni di loro hanno i piedi che toccano terra. Quindi è davvero un gesto volontario? Perché in caso contrario, con una piccola spinta sui piedi, avrebbero tranquillamente potuto salvarsi. E invece, perché la nonna era da sole, in una stanza a parte, sdraiata per terra? Perché era l'unica in quella posizione? Come già detto, in quella casa vivevano insieme tre generazioni. C'erano anche dei bambini, quindi. Come si fa a convincere dei bambini a togliersi la vita? Dall'ipotesi iniziale di s*****o di massa, si passa quindi presso all'ipotesi di s*****o. Perché qualcuno che decide di togliersi la vita dovrebbe legarsi e imbavagliarsi in quel modo? Oltretutto per riuscire a ridurre in quello stato 11 persone. È impossibile pensare che sia stata opera solo di una singola persona. E per quale motivo, poi, le donne avevano ancora indosso i loro gioielli? Questo esclude immediatamente l'ipotesi di una rapina. In casa non ci sono tracce di lotta o sangue. E non c'è nulla che suggerisca un'aggressione da parte di una persona esterna. A questo punto le ipotesi perseguibili per la polizia non sono più molte. E non possono far altro che definirlo un s*****o di massa. In attesa, comunque, di capirci qualcosa. Nel frattempo la folla fuori dalla porta della casa della famiglia era cresciuta a dismisura. In quelle condizioni, con degli strumenti limitati, mettere in sicurezza la scena è stato molto complicato. La notizia si era già sparsa in fretta. E la strada si era riempita di centinaia di migliaia di persone che volevano capire, volevano saperne di più. Era pieno di giornalisti. Ormai a Burari non si parlava d'altro. E ad aver contribuito a questo circo mediatico era stato un video girato da qualcuno che era riuscito ad arrivare alla scena del crimine prima della polizia. E aveva filmato tutto. Questo video ovviamente diventa virale in pochissimo tempo. Ed è a dir poco disturbante. Mostra i membri della famiglia appesi e associa quell'immagine all'albero baniano. Un albero che ha tutti i rami che cadono verso il suolo. In realtà, per la cultura indiana, molti hanno trovato questo paragone calzante. La polizia interroga dei membri della famiglia Chundawat, dei parenti lontani che vivevano in altre città. Nessuno ha dei dubbi sul fatto che non si trattasse di suo figlio. Anzi, inorridiscono all'idea che le autorità stessero prendendo anche solo in considerazione quell'ipotesi. Tutti raccontano di quanto fosse una famiglia affiatata, moderna. Le figlie più grandi erano tutte laureate. I bambini erano felici. Andavano bene a scuola. Come si può pensare che una famiglia come quella si sia tolta la vita volontariamente? Tina, la moglie di Lalit, il capofamiglia dei Chundawat, aveva parlato con suo fratello proprio la sera prima che venisse ritrovato senza vita. Il suo tono di voce era normalissimo e lo aveva salutato serenamente dicendogli «Ci sentiamo domani». Inoltre, Prianka, una delle nipoti, era in procinto di sposarsi. Questo era grandissimo motivo di gioia per la famiglia, che infatti aveva organizzato una grande festa per il fidanzamento solo dieci giorni prima, aspettando con emozione che arrivasse il giorno del matrimonio. Come si fa a passare dal festeggiare gioiosamente, a decidere di togliersi la vita nel giro di dieci giorni? E se quella era l'intenzione premeditata? Perché investire così tanti soldi nel matrimonio imminente? Nulla. Sembrava avere un senso. Eppure la polizia era decisa nel perseguire proprio quella direzione, quella del s*****o. Alla luce di ciò, l'opinione pubblica inizia a prendere posizione, affermando che la polizia non stesse facendo bene il suo lavoro. Stavano sicuramente nascondendo qualcosa. Qualcuno doveva per forza essere responsabile di quel terribile delitto. Qualcuno era entrato in quella casa e aveva ucciso quelle persone. La polizia per qualche motivo lo stava nascondendo, o ancora peggio, proteggendo. Si fa dunque avanti un'organizzazione radicale, chiamata Carni Sena, la quale sostiene che alcuni membri della famiglia Chundawat siano loro parenti. Minacciano quindi di voler fare qualsiasi cosa, pur di avere giustizia. Avrebbero ribaltato l'intera città se fosse stato necessario. A questo punto l'aria già pesante per ciò che era accaduto iniziava a diventare sempre più tesa. Quasi presagio di un'imminente rivolta. La folla si stava agitando sempre di più. E tutti, nessuno escluso, stavano accusando la polizia di corruzione. Proprio per aver archiviato troppo velocemente il caso. Ma in realtà la polizia aveva tutte le intenzioni di indagare a fondo sul caso. Se qualcuno li aveva davvero uccisi, volevano scoprire chi. In caso contrario, perché si erano tolti la vita? Anche in quest'ultimo caso, non avrebbero fermato le indagini per capire quale fosse stata la ragione. Decidono dunque di rivolgersi al loro miglior agente investigativo. Un uomo di nome Satish Kumar. Una volta arrivato sulla scena, le conclusioni sono più o meno le stesse dei suoi colleghi. Non ci sono segni di lotta, non ci sono porte o finestre rotte. Tutto sembra normale e quei corpi sembrano quasi sereni. Poi però inizia a notare di dettagli particolari. Per esempio, le corde di tessuto che hanno usato sono state legate in quella grata di ferro tutte alla stessa distanza l'una dall'altra. In modo quasi simmetrico, come a formare un cubo di Rubik. L'investigatore inizia a pensare che non si potesse trattare di una coincidenza oppure di una scelta casuale. Nota anche che non tutti hanno le mani legate allo stesso modo. Ad esempio, Buhnish ha una mano slegata. Questo poteva indicare quindi che aveva provato a liberarsi. Lalit e Tina invece non hanno affatto le mani legate. Mentre invece i bambini erano legati in modo molto stretto. E anche se ci avessero provato, non sarebbero mai stati in grado di liberarsi. Nota anche ulteriori cose inquietanti, come i resti di una pita rituale. O ancora la presenza costante del numero 11. Si rende conto che tutto in quella casa riportava l'11. 11 erano i membri della famiglia. 11 erano le bare della griglia. C'erano 11 finestre nella casa. 11 sbarre nella ringhiera del balcone. La ricorrenza del numero 11 viene notata anche da alcuni giornalisti che stavano in strada. Notano che nella parte esterna della casa ci sono 11 tubi che fuoriescono. 7 di questi tubi sono curvi verso il basso. Mentre altri 4 escono dritti. E se ci pensiamo, le vittime sono 4 donne e 7 uomini. Ma la cosa più inquietante è che la disposizione dei tubi fuori dalla casa segue un perfetto schema. Esattamente identico secondo il quale sono disposti i corpi appesi nella casa. Viene dunque da pensare che fosse tutto parte di uno strano rituale. E che quei tubi sarebbero serviti magari a far fuoriuscire le loro anime. La polizia quindi interroga il muratore che aveva effettuato i lavori in casa loro. E gli chiede spiegazioni riguardo quei tubi. Lui risponde che la famiglia gli aveva espressamente chiesto di installare quei tubi. Ma non per qualche rito strano. Semplicemente per far entrare più luce in casa e far arieggiare l'ambiente. Senza dover necessariamente aprire le finestre. Ma tutto questo che senso aveva? Chi fa costruire dei tubi? Siete dei quali girati all'ingiù per far arieggiare la casa e per fare luce? Quanta arie e luce può mai entrare da quei tubi? Beh, poca. Troppo poca. Ma il muratore insiste. Non avevano nessun significato. La posizione inoltre era stata scelta casualmente. E anche la forma dei tubi era stata scelta casualmente. Non aveva a che fare con nessun rituale. Possibile quindi che fosse tutta una coincidenza? Né la polizia però, né la gente crede a questa storia. Ormai tutti sono convinti che ci sia sotto qualcosa di esoterico. Forse la famiglia era stata circuita da un guru che approfittando della loro forte superstizione li aveva convinti a compiere quel gesto. È importante inoltre sottolineare quanto la superstizione nella loro cultura giochi un ruolo fondamentale. Questo è uno dei principali motivi per cui la folla aveva reagito in quel modo davanti a questa orribile scoperta. I media purtroppo cavalcano l'onda e formulano diverse accuse contro la figlia di uno degli operai che aveva fatto i lavori in casa a Chundawat. Una donna di nome Gita Amata che inizia quindi ad essere perseguitata dai media venendo interrogata infinite volte dalla polizia prima di riuscire a convincere tutti che lei non aveva niente a che fare con quella storia ed era la verità. Infatti, per scoprire cosa è davvero successo a questa famiglia dobbiamo fare un salto indietro nelle radici della loro storia. Grazie Silvia e grazie Elisa ora parliamo meglio insieme a me della famiglia Chundawat. In India è molto comune che in una famiglia allargata che viva sotto lo stesso tetto vi sia un capofamiglia un patriarca che detiene tutta l'autorità all'interno di quella famiglia. E in origine all'interno della famiglia Chundawat questo ruolo era ricoperto da Bhopal Singh sposato con Narayami. La coppia e tutta la famiglia Chundawat viveva a Toana una località a nord dell'India avevano una fattoria delle mucche da latte e tre ettari di terra quindi erano dei contadini e degli allevatori. I soldi però ahimè scarseggiano quindi nel 1989 Bhopal decide di vendere tutte le proprietà della famiglia e di trasferirsi a Delhi e per la precisione a Burani e ripartire da zero. Acquistano dunque due negozi un minimarket e un negozio di legnami allo scopo di far lavorare tutta la famiglia ma anche le generazioni future. Il cerchio della vita Bhopal a un certo punto muore e oltre alla perdita di una persona così cara si crea proprio un vuoto all'interno della famiglia a livello gerarchico infatti viene a mancare la colonna portante della famiglia il patriarca. Si cerca dunque tra i figli di Bhopal chi possa succedergli e soprattutto chi possa farlo il prima possibile. Infatti le cose per la famiglia Chundawat iniziano a mettersi male i soldi scarseggiano e gli affari vanno davvero male. Trovare un capofamiglia diviene la priorità più pressante si prova quindi a capire chi possa ricoprire questo ruolo vi è un figlio maggiore che si chiama Dinesh ma abita troppo lontano quindi viene scartato vi è poi un mezzano che si chiama Boob Nash ma ha un indole mite non sembra adatto a fare il leader è una persona molto semplice che lavora tutto il giorno dalla mattina presto alla sera tardi e quindi non ha tempo per occuparsi anche di tutta la gestione familiare sorprendentemente in modo quasi del tutto naturale la figura del leader viene individuata nel figlio minore che si chiama Lalit Lalit ha già una forte influenza all'interno di quella famiglia è molto stimato e tutti lo ascoltano è sicuramente il più giovane ma è anche molto maturo per la sua età Lalit in questo ruolo eccelle davvero riesce a prendersi cura di tutti dalla madre anziana ai bambini piccoli delle sue sorelle tutti lo stimano e lo ascoltano davvero e perciò le cose per la famiglia iniziano ad andare nuovamente bene le cose però non vanno bene solo economicamente Lalit è attento a tanti piccoli dettagli ad esempio consiglia ai membri della sua famiglia una dieta per stare meglio anche in salute sempre sotto alla guida di Lalit una delle sue nipoti Prianka ha veramente un gran successo perché trova lavoro in una multinazionale molto importante e in più si fidanza con un buon partito ed è in procinto di sposarsi quindi sembra davvero che Lalit abbia un'ottima influenza sulla sua famiglia ma in realtà le cose sono molto più oscure di come ci appaiono parto con il dirvi che Lalit non ha mai avuto né una vita semplice né ordinaria nel 1988 quando ha 15 anni ha un bruttissimo incidente con il motorino e riporta delle gravi lesioni cerebrali a seguito di ciò Lalit inizia ad addormentarsi ovunque ha degli attacchi di narcolessia molto forti gli amici del tempo riportano che Lalit si addormentava anche durante una conversazione anche mentre lui stesso stava parlando così all'improvviso si viene ricoverato qualche giorno in ospedale ma dopo pochi giorni viene dimesso come se fosse nuovo ma questo non è l'unico incidente che coinvolge Lalit in quegli anni qualche anno dopo il trasferimento della famiglia a Delhi Lalit subisce una bruttissima aggressione diciamola tutta tentano di accopparlo è sera e lui sta svolgendo il suo turno all'interno del negozio di legnami della famiglia quando ha una brutta discussione con un suo dipendente non siamo riusciti a capire bene quale fosse il motivo ma probabilmente qualcosa inerente alla paga a dei soldi insomma il dipendente però lo aggredisce lo picchia selvaggiamente poi lo lascia chiuso all'interno del negozio e dà fuoco al negozio ora è un negozio di legnami e quindi se tanto mi da tanto la legna brucia facilmente e velocemente e quindi Lalit in breve tempo è chiuso all'interno di questo negozio dove le fiamme divampano Lalit aveva addirittura perso i sensi ma poi si sveglia anche se è ferito poiché sulla testa e sulla schiena gli sono cadute delle pesanti cassette di legna nonostante questo ha la prontezza di afferrare il cellulare e di chiamare suo fratello così verrà miracolosamente salvato ma a seguito di questo bruttissimo fattaccio Lalit rimane completamente muto perde la voce e inoltre riporta un secondo trauma cranico la famiglia è disperata perché Lalit ovviamente ha delle gravi ripercussioni sulla sua salute mentale è depresso ha molte difficoltà ad accettare la cosa e ad affrontarla e si licenzia anche dal lavoro beh dopo un fatto del genere è facilissimo soffrire di una cosa che si chiama disturbo post traumatico da stress ed è importante agire subito e aiutare la persona che ne soffre perché questo disturbo è una bomba innescata e pronta ad esplodere è importantissimo sottoporsi a delle cure per la prevenzione del disagio psichico perché questa è una ferita che c'è ma non si vede e quindi è subdola ed è potenzialmente più letale e il buon dottore di Lalit gli consiglia di andare da uno psichiatra anche perché crede fermamente che quella perdita della voce non sia dovuta ad una causa di origine organica ma che sia piuttosto il prodotto di un trauma psicologico ma dovete sapere che in India la salute mentale è ancora un grandissimo tabù e non soltanto in India quindi Lalit si rifiuta categoricamente di andare in terapia perché equivale ad essere stigmatizzato ad avere proprio un marchio sopra sicuramente è una cultura più arretrata della nostra da questo punto di vista e la salute e soprattutto la salute mentale non è molto attenzionata non ci sono delle strutture specializzate proporzionate anche alle norme densità della popolazione e vi è anche molta disinformazione la gente pensa ancora oggi che solo i matti vanno in terapia da uno psichiatra e questo è il motivo per cui anche Lalit si rifiuta perché una persona che mostra un disagio psichico preferisce nascondersi chiudersi in se stesso ed è lasciato solo ai suoi traumi è chiaro che la salute mentale di Lalit dovesse essere attenzionata che lui dovesse avere delle cure in tal senso da subito proprio per sostenerlo ed aiutarlo ma questo non viene fatto la salute mentale di Lalit viene totalmente trascurata e a lungo andare nella sua mente strato dopo strato si forma un profondo stato di psicosi che non gli permette di vivere e di affrontare in modo razionale i problemi della vita e la morte di suo padre Bhopal che già di per sé è un trauma per un figlio peggiora notevolmente le cose la cosa più grave oltre al rifiuto di Lalit è che nessuno della sua famiglia si accorge del profondo disagio che questo ragazzo sta vivendo e nessuno quindi tenta di aiutarlo anzi Lalit viene investito del ruolo di patriarca di capofamiglia che comunque nonostante tutto riesce a svolgere davvero molto bene perché grazie a lui la famiglia inizia a prosperare e a stare anche meglio di prima ora ci facciamo questa domanda ma se Lalit non parla come fa a comunicare con la sua famiglia beh ovviamente tramite la scrittura Lalit tutti i giorni tiene un diario dove scrive delle precise istruzioni e regole per ogni membro della sua famiglia inoltre Lalit scrive anche delle regole generali che tutti i membri della famiglia devono seguire una di queste è quella di pregare tutti insieme alle ore 22 ogni sera e proprio durante una di queste sedute di preghiera all'improvviso Lalit torna la voce si mette a recitare una preghiera a voce altissima mentre gli altri componenti della famiglia rimangono in silenzio sbigottiti con gli occhi sgranati a guardarlo e a quel punto Lalit spiega ai suoi familiari che è stata la benedizione di suo padre Bhopal a fargli tornare la voce e inoltre che da tempo lui è in contatto con lo spirito del suo difunto padre Bhopal è stato proprio suo padre a dirgli che se loro avessero pregato tutte le sere alle ore 22 la voce gli sarebbe tornata e così è stato Lalit è convinto di guidare la sua famiglia soprattutto grazie all'aiuto di suo padre Bhopal che gli suggerisce cosa scrivere ogni giorno all'interno di quei diari e grazie a quelle annotazioni effettivamente la famiglia ha trovato salute prosperità ricchezze benessere ed è quindi un dato di fatto che le condizioni della famiglia siano davvero migliorate nessuno può obiettare su questo anche i vicini lo raccontano per cui viene logico credere che la versione di Lalit sia vera soprattutto in una famiglia molto religiosa e spirituale come quella di Lalit iniziano dunque a temere la figura di Lalit a vederla una figura misteriosa non soltanto una figura autoritaria a cui portare rispetto ma una figura quasi sovraumana mistica non avrebbero mai trasgredito ad un ordine di Lalit prima e figuriamoci ora e la cosa interessante è che il meccanismo che si è creato in questa famiglia ora è lo stesso che si crea all'interno di una setta che cosa spinge gli adepti di una setta a fare delle cose all'interno di questa setta che al di fuori non farebbero mai al mondo il leader di culto è solitamente una persona brillante intraprendente certamente molto carismatica ma nonostante tutte queste qualità e questi fattori a un certo punto riesce quasi sempre a dimostrare i suoi seguaci di possedere delle capacità sovrannaturali o comunque delle qualità che gli altri non possono possedere vediamo il caso di Lalit Lalit ha riacquistato la voce dopo anni di silenzio pensate che in quegli anni gli è nato anche un figlio che non conosce il suono della sua voce Lalit non lo ha mai chiamato per nome e questa è sicuramente una grande sofferenza per un padre e quindi è proprio questo avvenimento questo fatto che fa credere alla famiglia che Lalit dica il vero e che Lalit sia davvero guidato dallo spirito del defunto padre Bhopal e quindi ovviamente si sottomettono completamente a lui fanno tutto ciò che Lalit gli ordina inoltre come in ogni setta che si rispetti Lalit all'interno della sua famiglia ha vietato ogni forma di libertà e di divertimento i membri della famiglia ogni giorno devono leggere il diario e devono attenersi esclusivamente a quanto indicato per vivere le loro vite nessuno prova ad obiettare anche perché ormai si è creato un circolo virtuoso e vizioso allo stesso tempo hanno paura di perdere tutta quella fortuna di perdere tutto quell'equilibrio che hanno trovato ma quindi torniamo ora all'inizio della nostra storia che cosa ha spinto questa famiglia a fare quella bruttissima fine che cosa è successo alcuni amici vicini raccontano delle cose interessanti relative a subito prima e dopo il fidanzamento di Prianka la littera apparso giù di morale triste evasivo sfuggente tendeva ad isolarsi e dormiva moltissimo dormiva tutto il giorno dopo il fidanzamento di Prianka in particolare passava delle intere giornate a letto tant'è che i vicini avevano chiesto anche sue notizie ma ovviamente la risposta era stata che sì la lit stava bene era solo molto stanco poiché prendeva delle medicine per la gola che gli davano un po' di sonolenza tutto qua ora andiamo alla polizia la polizia nel frattempo ha visionato le videocamere di sicurezza poste all'ingresso della casa dei Chundawat per capire se qualcuno si fosse introdotto all'interno della casa o se la famiglia avesse ricevuto quella tragica sera qualche ospite se qualcuno potesse quindi avergli fatto del male o averli manipolati beh le registrazioni mostrano che il 28 giugno ossia due giorni prima del tragico incidente Tina la moglie di Lalit e il loro figlio di 15 anni avevano portato a casa quattro grossi sgabelli la sera del 30 giugno alle 21 e 40 circa Tina la moglie di Lalit in compagnia di un'altra donna porta all'interno della casa altri due sgabelli poi alle 22 e 30 si vede il figlio di Lalit che va all'interno del negozio di famiglia ne esce con una matassa di cavi che porta all'interno della casa insomma dalle registrazioni non si vede altro che un membro della famiglia dopo l'altro che porta all'interno della casa tutti gli oggetti che verranno ritrovati sulla scena del presunto sui c***i di massa gli sgabelli su cui erano saliti i cavi che legavano le loro mani e i tessuti da cui pendevano possibile che avessero fatto davvero tutto da soli e qual è la verità dietro la misteriosa figura di Lalit e dei suoi diari la scoperta dei diari è la svolta decisiva in questo caso sui diari infatti era stato documentato tutto c'era ogni dettaglio della loro vita e c'era ogni dettaglio anche di come avevano deciso di porre fine alla loro vita e perché ma andiamo per ordine la polizia sta analizzando la scena del crimine quando improvvisamente trova un diario ma a prima vista sembrava un diario normale leggendolo capiscono che appartenesse alla Lalit ma le pagine non contenevano informazioni strane era semplicemente un resoconto delle sue giornate continuano quindi a perquisire la casa quando in un'altra stanza trovano un altro diario a quel punto capiscono che devono essercene altri e che forse potrebbero essere importanti nella comprensione della storia e così infatti è trovano altri diari sparsi per la casa in tutto indovinate quanti 11 11 diari di cui l'entrata più vecchia risale al 2007 e quella più recente al giorno dell'incidente 11 diari quindi con sopra documentati 11 anni di vita dei Chundawat il numero 11 quindi continua ad essere un elemento costante di questa storia la polizia inizia ad analizzare e a leggere questi diari le pagine dei primi anni sembravano appunto dei resoconti normali della vita di Lalit ma col passare del tempo la forma con cui scriveva era cambiata Lalit aveva iniziato a scrivere in modo sempre più autoritario aveva iniziato a scrivere compiti e ordini rivolti ai membri della sua famiglia e sappiamo che Lalit a quel punto aveva anche iniziato a vedere e a parlare al fantasma di suo padre e sappiamo che era lui ad ordinare che cosa scrivere e quali ordini dare ogni mattina la sua famiglia si svegliava e controllava il diario per capire quali compiti gli aspettassero quel giorno quale fosse il programma della giornata le pagine diventavano però sempre più cupe e autoritarie iniziavano a comparire come delle note di demerito come per esempio il fatto che uno dei ragazzini più giovani passasse troppo tempo al cellulare cosa che non andava bene affatto il diario infatti gli ordinava di smetterla o ancora il diario ordinava a due delle nuore di migliorare il rapporto tra loro gli attriti che c'erano tra questi due membri della famiglia avrebbero danneggiato la loro vita e il loro futuro quindi ordinava di rimediare immediatamente alla cosa ma da un certo punto in poi sembra che a scrivere queste parole sul diario non sia più neanche la lit ma qualcun altro o meglio la calligrafia continuava ad essere quella di la lit ma iniziano ad esserci frasi come state facendo arrabbiare la lit oppure dovete seguire gli ordini di la lit altrimenti ne pagherete le conseguenze da quel momento in poi le pagine vengono tutte impostate in questo modo come se fosse il padre defunto di la lit a scrivere venivano trascritte anche le conversazioni che avvenivano tra i due in sogno e anche altri dettagli inquietanti come per esempio il fatto che la lit venisse spesso posseduto dallo spirito del padre e a quanto pare in quei momenti cambiava voce la sua voce si trasformava nella voce di suo padre iniziava a parlare come lui e non solo iniziava anche a muoversi e a comportarsi come lui e quello deve essere stato il momento in cui la famiglia si è davvero arresa al fatto che lo spirito di Bhopal fosse davvero tra loro che li stesse davvero guidando verso un futuro migliore nei mesi precedenti all'incidente lo spirito di Bhopal aveva scritto sul diario di non preoccuparsi per la salute di la lit o per il fatto che dormisse sempre il motivo era che fare da tramite ad un fantasma essere posseduto di continuo era molto stancante per lui di conseguenza aveva bisogno di dormire molto più dormiva e più permetteva a Bhopal di impossessarsi del suo corpo e quindi di guidarli scriveva anche di rinunciare completamente alla loro volontà non dovevano più pensare a nulla non dovevano desiderare nulla né farsi domande dovevano solo seguire la volontà dei diari dovevano avere fede nei diari si capisce dai diari che non per tutti però è stato facile accettare la loro volontà la volontà dei diari senza obiettare per esempio Savita che era la moglie di Bouv Nash uno dei fratelli di Lalit era stata costretta dai diari a passare tutta la sua vita in cucina era obbligata a stare in cucina a cucinare e comunque in casa a pulire tutto il giorno tutti i giorni ed era l'unica a doversi occupare di quell'aspetto lì doveva pulire e cucinare per tutti gli altri membri della famiglia punto e basta a questa povera donna non era permesso di uscire né di avere un hobby si legge infatti nei diari che era meglio che Savita ponesse fine ai suoi scatti d'ira e ai suoi capricci i diari avevano anche proibito a Bouv Nash di bere alcol ad un certo punto i diari avevano iniziato anche a distruire la famiglia su come compiere dei rituali strani esoterici che servivano appunto a portare soldi e fortuna ed effettivamente in concomitanza con questi rituali queste cose si erano avverate come vi abbiamo detto prima avevano guadagnato molti più soldi Prianka aveva trovato un buon lavoro e via dicendo insomma tutto per loro stava accadendo perché seguivano le istruzioni dei diari e arriviamo infine alle ultime pagine quelle in cui era documentata l'ultima settimana prima dell'incidente il 24 giugno del 2018 quindi una settimana prima c'erano scritte le istruzioni per eseguire un rituale chiamato rito dell'albero bagnano proprio l'albero a cui avevano pensato tutti vedendo la scena del crimine c'era scritto che il rituale sarebbe durato sette giorni e in quei giorni i membri della famiglia avrebbero dovuto comportarsi proprio come quell'albero la cerimonia doveva svolgersi esattamente a luna di notte per sette giorni consecutivi nel caso in cui fossero arrivati degli ospiti avrebbero dovuto rifare tutto il giorno dopo c'era scritto anche che avrebbero dovuto spegnere tutte le luci avrebbero dovuto bendarsi imbavagliarsi tapparsi le orecchie e tutto ciò perché la mente doveva essere il più libera possibile dovevano tutti concentrarsi sull'infinito non dovevano distrarsi né pensare a nient'altro il fine di quel rituale era quello di fare ammenda di rimediare a tutti i loro errori passati e l'ultima frase scritta sul diario chiarifica ulteriormente il tutto nell'ultima frase lo spirito di Bhopal ordinava alla famiglia che come ultimo passaggio del rituale posizionassero un bicchiere d'acqua sul pavimento e scriveva che quando l'acqua avrebbe cambiato colore allora lui si sarebbe palesato e li avrebbe liberati da questo la polizia capisce che quello non era a tutti gli effetti un studio ecco come avevano fatto a convincere anche i bambini a fare quella cosa il fine di quel rituale non doveva essere la morte in qualche modo l'alit aveva soggiogato tutti li aveva convinti che attraverso quel rituale suo padre defunto Bhopal si sarebbe palesato non più attraverso di lui non più possedendolo e parlando attraverso il suo corpo ma sarebbe fisicamente tornato dal mondo dei morti e li avrebbe salvati li avrebbe slegati e tirati giù gli unici a non avere le mani legate infatti erano proprio l'alit e sua moglie si pensa che sua moglie lo avesse aiutato in tutto ciò e che fossero stati loro due insieme a legare e a imbavagliare tutti gli altri avevano legato in modo più stretto i bambini perché immagino fossero quelli più restii quelli che avrebbero cambiato idea più facilmente infatti dall'autopsia era venuto fuori che l'alit non li avesse semplicemente imbavagliati aveva imbevuto un panno nell'acqua e gliel'aveva infilato in gola mentre invece il motivo per cui la nonna Narayami era stata posizionata in un'altra stanza sul pavimento era semplicemente che era troppo vecchia e il suo peso era troppo per permettere all'alit di appenderla come tutti gli altri aveva quindi legato la sciarpa intorno alla maniglia dell'armadio e l'aveva soffocata in quel modo e per ultimi si erano appesi loro l'alit e Tina loro erano gli unici che sapevano esattamente cosa stesse succedendo ma quello che nessuno mai forse capirà per certo è perché l'alit ha compiuto quel gesto estremo che cosa lo ha fatto scattare in quel modo e gli ha fatto decidere dopo undici anni di diari possessioni ordini rituali che avrebbero dovuto farla finita l'ipotesi più plausibile è che la causa sia stato il matrimonio imminente di Prianca una volta che si sarebbe sposata Prianca avrebbe lasciato la famiglia e sarebbe andata a vivere con il marito con la famiglia del marito avrebbe dunque distrutto l'equilibrio che era venuto a crearsi si pensa che l'alit spaventato dalla cosa abbia trovato il modo di agire in fretta ed evitare che tutto quello che aveva fatto negli anni venisse fuori venisse scoperto un'altra ipotesi è che la causa sia semplicemente stata la sua salute mentale trascurata uno dei sintomi della psicosi è sentire delle voci l'alit non stava bene e nessuno se ne è reso conto a causa appunto della scarsa informazione riguardo le malattie mentali unito alla forte tendenza alla superstizione da parte della famiglia il giorno dei funerali degli undici membri della famiglia è stato molto traumatico per quelli che erano sopravvissuti il fratello di l'alit di nesh sopravvissuto perché viveva in un'altra città ha dovuto assistere alla cremazione della sua intera famiglia pensate a quanto deve essere doloroso perdere undici membri della propria famiglia in una volta sola è tradizione nei funerali indiani cremare i corpi e che ogni corpo abbia il proprio sacerdote ma quello era un evento talmente anomalo che non sono neanche riusciti a trovare abbastanza sacerdoti per tutte quelle persone insieme hanno infine deciso che sarebbe stato un solo sacerdote a svolgere tutti i riti per tutti e undici i corpi l'unica consolazione per i familiari rimasti in vita è che gli occhi delle undici vittime sono stati donati nella tradizione indiana infatti quando alla morte di una persona cara viene donato qualcuno dei suoi organi è come se in qualche modo continuasse a vivere nel corpo di un'altra persona questo pensiero dà un senso di sollievo alla famiglia e li aiuta ad accettare un po' di più una tragedia che decisamente non sarebbe dovuta mai accadere amici queste sono tutte le informazioni che abbiamo su questo caso grazie per aver passato il vostro tempo con noi anche oggi spero che questa collaborazione vi sia piaciuta grazie alle mie colleghe e amiche Fio e Silvia non solo per aver collaborato con me oggi ma anche per supportarmi e sopportarmi ogni santo giorno quindi grazie Fio e Silvia grazie a voi perché senza di voi non sarei qui non saremo qui grazie di cuore buon Halloween e ci vediamo come al solito al prossimo video ciao ciao